Il signor Saval, notaio Avernon, era un appassionato di musica, ancora giovana, già calvo, sempre rasato di fresco e con cura, un po' massiccio come si conviene ai notai, con gli stringi nasi in oro, al posto degli antiquati occhiali a stenghitta, dinamico, galante e gaio, era considerato un artista Avernon, suonava il piano e il violino, organizzava concerti privati nei quali venivano eseguite le novità musicali, aveva anche quello che si chiama un filo di voce, nient'altro che un filo, un sottilissimo filo, ma egli lo modulava con tanto buon gusto che i bravi, bravissimo, sorprendente, adorabile, uscivano da tutte le bocche appena finiva l'ultima nota. Era abbonato presso un editore di musica di Parigi che gli inviava le novità e il notaio ogni tanto mandava all'alta società della sua città brevi inviti così concepiti. Siete pregato di assistere lunedì sera in casa del signor Saval, notaio, alla prima audizione Avernon del Seis. Qualche ufficiale che aveva una bella voce lo accompagnava. Cantavano anche due o tre donne. Il notaio faceva la parte del direttore d'orchestra con tanta sicurezza che il capobanda del centonovantesimo fanteria di linea aveva detto di lui un giorno al Caffè Europa. Oh, il signor Saval, è un maestro, è una sfortuna che non si sia dato all'arte. Quando si faceva il suo come in un salotto, c'era sempre qualcuno che esclamava «Non è un dilettante, è un artista, un vero artista!» e altre due o tre persone ripetevano con profonda convinzione «Oh sì, un vero artista!» calcando la voce sul vero. Ogni volta che a Parigi veniva data un'opera nuova, il signor Saval faceva il viaggio per le Cardisi. L'anno scorso egli volle come al solito andare ad udire l'Enrico VIII. Prese il diretto che arrivava a Parigi alle quattro e mezzo, deciso di partire col treno di mezzanotte e trentacinque per non dormire in albergo. Aveva indossato in casa l'abito nero da sera con la cravatta bianca che teneva celata sotto un sopravito dal bavero rialzato. Appena ebbe messo piede in via Amsterdam, si sentì allegro. Egli diceva tra sé «È proprio vero che l'aria di Parigi non assomiglia a nessun'altra aria. C'è un non so che di rianimante, d'eccitante, d'inebriante, che vi mette addosso una gran voglia di saltare e di fare bene altre cose ancora. Da che sono disceso qui, mi sembra un tratto d'aver bevuto una bottiglia di champagne. Che vita si potrebbe fare qui, in questa città, in mezzo agli artisti. Felici, dialetti, i grandi uomini che godono fama in una simile città. Che vita bella è la loro. E faceva progetti. Avrebbe voluto conoscere qualcuno di quegli uomini celebri per parlare di essi a Vernogno e passare qualche serata in casa loro quando veniva a Parigi. Ma un tratto gli venne un'idea. Aveva sentito nominare alcuni piccoli caffè dai boulevard della periferia, dove si riuniscono pittori già noti, letterati e anche musicisti, e si mise a salire a passilenti verso Montmartre. Aveva due ore davanti a sé. Voleva vedere. Passò dinanzi alle birrerie frequentate dagli ultimi bohemian, guardando le teste e cercando di indovinare quali fossero gli artisti. Finalmente, attratto dal nome, entrò al topo morto. Cinque o sei donne sedute ai tavolini di marmo parlavano a bassa voce delle loro faccende amorose, dei litigi di Lucy e di Hortense, delle mascalzonate d'Octave. Erano donne mature, troppo grazie o troppo magre, stanche e sfiorite. Si indovinava che dovevano essere quasi calve e bevevano birra come uomini. Il signor Saval si sedette lontano da loro e attese, poiché l'ora dell'assenzio si avvicinava. E di lì a poco un giovane alto venne a sedersi vicino a lui. La padrona lo chiamò signor Romantin. Il notaio sussultò. Era forse quel Romantin che aveva avuto uno dei primi premi all'ultima esposizione del Salon? Il giovane chiamò il cameriere con un gesto. Mi porterai subito la cena. Poi porterai nel mio nuovo studio, Boulevard des Clichy, quindici, trenta bottiglie di birra e il prosciutto che ho ordinato stamani. Dobbiamo inaugurare il mio nuovo studio. Il signor Saval si fece servire subito la cena. Poi tolse il sopravito, mostrando l'abito nero e la cravatta bianca. Il vicino parve che non lo notasse neppure. aveva preso un giornale e leggeva. Il signor Saval lo guardava di fianco, bruciando dal desiderio di parlargli. Entrarono due giovani vestiti di velluto rosso e con la barba a punta all'Enrico III. Si sedettero di fronte a Romantin. Il primo disse, è per questa sera? Romantin gli strinse alla mano. Certo, vecchio mio, e ci saranno tutti. Bonanghi, Lamain, Gervais, Perrault, Herbert, Lue, Claret, Jean-Paul Loin. Sarà una festa stupenda. E le donne, vedrai, tutte le attrici, senza eccezioni, tutte quelle che non hanno nulla da fare stasera. Il proprietario del caffè si era avvicinato. Le fate spesso, eh, queste feste d'inaugurazione? Il pittore rispose, ogni tre mesi, a ogni scadenza. Il signor Saval non si contenne più, e con voce esitante, vi chiedo scusa se vi disturbo, signore, ma ho sentito pronunciare il vostro nome, e avrei desiderio di sapere se voi siete il signor Romantin di cui ho tanto ammirato l'opera al Salon. L'artista rispose, lui stesso in persona, signore. Il notaio fece un bel complimento che rivelava l'uomo colto. Il pittore contento rispose cortesemente. Si cominciò a cacchierare. Romantin, tornando alla sua inaugurazione, diede ai particolari sulla magnificenza della festa. Il signor Saval li interrogò su tutti gli uomini che avrebbe ricevuto, aggiungendo, per un estraneo sarebbe una straordinaria fortuna incontrare in una sola volta tante celebrità riunite in casa di un artista del vostro valore. Romantin, conquistato, rispose, se ciò vi può far piacere, venite. Il signor Saval accettò con entusiasmo, pensando, avrò sempre il tempo di vedere l'Enrico VIII. Entrambi avevano finito la cena. Il notaio si affrettò a pagare i due conti, volendo contraccambiare la gentilezza del suo vicino. Pagò anche le consumazioni dei due giovani vestiti di velluto rosso, poi uscì col pittore. Si fermarono davanti a un fabbricato lungo e poco alto, di cui tutto il primo piano pareva un'immensa serra. Erano sei studi, che avevano le finestre sul viale. Romantin entrò per primo, salì le scale, aprì una porta, accese un fiammifero, poi una candela. Si trovarono in una stanza vastissima, i cui mobili consistevano in tre seggiole, due cavalletti e qualche schizzo appoggiato a terra lungo le pareti. Il signor Saval, stupito, restava immobile sulla porta. Il pittore disse «Ecco, abbiamo il posto, ma c'è da fare tutto». Poi, esaminando l'altra stanza, il cui soffitto si perdeva nell'ombra, dichiarò «Si potrebbe benissimo tra profitto da questo studio». E fece il giro, esaminandolo con grande attenzione. Poi riprese «Ho un amante che avrebbe potuto aiutarci per drappeggiare le stoffe. Le donne sono bravissime, ma l'ho mandata in campagna oggi per essere libero stasera. Non che la mi dia noia, ma le mancano le belle maniere, e sarei rimasto male presso gli invitati». Riflette un momento, poi soggiunse «È una buona ragazza, ma poco indulgente. Se sapesse che ricevo gente, mi caverebbe gli occhi». Il signor Saval non aveva fatto un movimento, non capiva. L'artista gli si avvicinò. «Poiché vi ho invitato, mi aiuterete a fare qualche cosa». Il notaio rispose «Risponete pure di me, a vostra disposizione». Romantin si tolse la giacca. «Ebbene, cittadino, all'opera, cominceremo a far pulizia». Andò dietro un cavalletto che sosteneva una tela che raffigurava un gatto, e prese una vecchia scopa. «Tenete, spazzate, mentre io mi occuperò dell'illuminazione». Il signor Saval prese la scopa. La considerò ben bene, poi si mise a strofinarla malamente sul pavimento, sollevando un nugolo di polvere. Romantin, indignato, lo fermò. «Non sapete dunque spazzare, perbacco, guardate me!» E cominciò a spazzare mucchi di immondizie, come se non avesse mai fatto altro per tutta la vita. Poi ridiede la scopa al notaio che limitò. In cinque minuti una tal nuve di polvere impiva lo studio, e Romantin chiese «Dove siete? Non vi vedo più!». Il signor Saval, che tossiva, si avvicinò. Il pittore gli chiese «Come fareste per combinare un lampadario?». L'altro assorto rispose «Che lampadario?». «Ma un lampadario per illuminare! Un lampadario con candele!». Il notaio non capiva. Rispose «Non lo so». Il pittore si mise a sgambettare, facendo schioccare le dita e guise a dinacchiere. «Ebbene, ho trovato io, signore!». Poi con più calma riprese «Avete cinque franchi in tasca?». «Ma sì!». L'artista riprese «Ebbene, andate a comprarmi cinque franchi di candele, mentre io vado dal bottaio». E spinse fuori il notaio, in abito da sera. Dopo cinque minuti essi erano di ritorno, portando l'uno un pacco di candele, l'altro un cerchio di botte. Poi Romantin aprì un armadio a muro e ne trasse una ventina di bottiglie vuote, che attaccò a corona intorno al cerchio. Scese a chiedere una scala alla portinaia, dopo aver spiegato che aveva ottenuto la protezione della vecchia facendo il ritratto del suo gatto, quello stesso ritratto che era esposto sul cavalletto. Quando fu di ritorno con la scala, egli chiese a Saval «Siete agile?». L'altro, senza capire, rispose «Ma sì! Allora salirete lassù e mattaccherete questo lampadario a una trave del soffitto. Poi metterete una candela in ogni bottiglia e l'accenderete. Vi dico che ho il genio dell'illuminazione, ma toglietevi la giacca per bacco. Avete l'aria di un cameriere?». La porta si aprì di colpo. Apparve una donna con gli occhi brillanti, che rimase ritta sulla soglia. Romantène la guardava con un'espressione di spavento. E l'attese qualche secondo. Incrociò le braccia sul petto. Poi con voce acute e vibrante, esasperata. «Ah, brutto ceffo! È per questo finocchio che mi mandi via!». Romantène non rispose. E la riprese. «Ah, ma scalzone! Fingevi di farmi una gentilezza mandandomi in campagna! Vedrai come t'ha giusto la festa! Io! Sì, sono io che riceverò i tuoi amici!». Ella s'animava. Gettero loro sul viso le bottiglie e le candele. Romantène con voce dolce disse «Matilde!». Ma ella ormai aveva preso la rincorsa. Andava avanti, vuotando il carico delle ingiurie e il sacco dei rimproveri. Il cuire delle male parole usciva dalla sua bocca come un ruscello che trasporti immondizie. Le parole sembravano come urtarsi prima di uscire. Ella balbettava, ciangottava, barbugliava, ritrovando la voce a volte per gettare un'ingiuria a una bestemmia. Egli le aveva afferrato alla mano senza che la donna se ne fosse accorta. Anzi, pareva che non lo vedesse neppure, occupata com'era a parlare, a sfogarsi. Ed un tratto si mise a piangere. Le lacrime le colavano dagli occhi senza che ella cercasse di frenarle. Ma le parole avevano preso un'intonazione piagnucolosa e falsa. Erano note bagnate. Poi i singhiozzi si interruppero. Ricominciò ancora due o tre volte, arrestata subito dal singulto. E infine tacque, mentre le lacrime traboccavano abbondantemente. Allora egli la strinse tra le braccia, baciandole i capelli, intenerito. «Matilde, mia piccola Matilde, ascolta, devi essere ragionevole. Lo sai, se do una festa è per ringraziare quei signori del premio al salon. Non posso ricevere donne, dovresti capire questo. Con gli artisti non si può agire come con gli altri». Ella balbettò tra il pianto. «Perché non me l'hai detto?» Il pittore riprese. «Era per non farti andare in collera, per non darti un dispiacere. Senti, io ti riaccompagno a casa tua. Sarai buona, gentile. Resterai tranquillamente ad aspettarmi a nanna e io tornerò appena tutto sarà finito». Ella mormorò. «Sì, ma tu non ricomincerai?» «No, te lo giuro». Egli si voltò verso Saval, che aveva finalmente appeso il lampadario. «Caro amico, tornerò fra cinque minuti. Se arriverà qualcuno durante la mia assenza, fategli onori di casa per me, non è vero?» E si trascinò dietro Matilde, che si asciugava gli occhi e si soffiava al naso. Rimasto solo, il signor Saval finì di mettere un po' di ordine intorno a lui, poi accese le candele e aspettò. Attesi un quarto d'ora, una mezz'ora, un'ora. Romantin non tornava. Poi a un tratto dalle scale venne un tumulto spaventoso, una canzone urlata in coro da venti bocche e con una cadenza da reggimento prussiano. I colpi regolari dei piedi facevano tremare tutta la casa. si aprì la porta e apparve una folla. Uomini e donne in fila, tenendosi a braccetto due per due e battendo il tacco in cadenza, entrarono nello studio, come una serpe che si snoda, e si urlavano «Entrate, entrate in casa, soldati e bambinaie!» Il signor Saval, sperduto in abito da sera, restava in piedi sotto il lampadario. La processione lo scorse e gettò un urlo. «Un cameriere, un cameriere!» E si mise a girare intorno a lui, chiudendolo in un circolo vociferante. Poi tutti si presero per mano e danzarono in tondo come pazzi. Egli cercò di spiegarsi. «Signori, signori, signore!» Ma non l'ascoltavano. Giravano, saltavano, sbraitavano. Finalmente la danza finì. Il signor Saval disse «Signori!» Un giovanottone biondo, barbuto fino al naso, gli troncò la parola. «Ma chi, signori? Penso al tuo servizio, se non vuoi che io ti dia una lezione!» Il notaio, spaventato, disse «Io sono il signor Saval!» Una voce gridò «Vuoi dire Battista?» Una donna intervenne. «Lasciatelo tranquillo, questo giovane. Alla fine si arrabbierà. È pagato per servire e non perché ci si beffi di lui». Allora il signor Saval s'accorse che ogni invitato aveva le sue provviste. Uno aveva una bottiglia, l'altro un pasticcio, quello un pane, un altro del prosciutto. Il giovanottone biondo si mise tra le mani un salsiccione smisurato e comandò «Prendi, prepara il buffet in un angolo, lì in fondo. Metterai le bottiglie a sinistra e le provviste a destra». Saval, perdendo la testa, esclamò «Ma signori, io sono un notaio!» Vi fu un momento di silenzio, poi una risata pazza. Un signore sospettoso disse «E come vi trovate qui?» Egli spiegò, raccontò il suo progetto di andare all'Opera, la sua partenza da Vernon e il suo arrivo a Parigi, tutta la sua serata. Tutti si erano seduti intorno a lui per ascoltarlo. Gli lanciavano frizzi, lo chiamavano Sharazad. Romantin non arrivava. Arrivarono altri invitati, a cui veniva presentato il signor Saval perché ricominciasse a narrare la sua storia. Egli rifiutava, ma lo obbligavano a raccontare. Fu messo a sedere su una delle tre seggiole, fra due donne che gli versavano da bere continuamente. Egli beveva, parlava, cantava anche. Volle ballare con la seggiola, e calde. Da quel momento dimenticò tutto. Gli parve tuttavia che lo svestissero, che lo coricassero, mentre sentiva un gran male allo stomaco. Quando si svegliò, il sole era alto. Si trovò disteso in fondo a un armadio a muro, in un letto che gli non conosceva. Una vecchia, con la scopa in mano, lo guardava furibonda. Infine disse, «Sporcaccione, via, sporcaccione! Come vi siete permesso di svestirvi così?» Egli si sedette sul letto, ma non si sentiva a suo agio. Domandò, «Dove sono? Dove siete, sporcaccione? Ete ubriaco? Andiamo, spicciatevi! È un po' più alla svelta di così!» Voglio alzarsi, ma era nudo. I suoi abiti erano spariti. Disse, «Signore, io...» Poi si ricordò. «Che fare?» Chiese, «Il signor Romantin non è tornato?» La portinaia gridò, «Spicciatevi! Che lui non vi trovi qui, almeno!» Il signor Saval, confuso, dichiarò, «Non ho più i miei vestiti! Me li hanno presi!» Dovette aspettare, spiegare quello che era avvenuto, avvertire i suoi amici, farsi prestare del denaro per comprare nuovi abiti. Poter ripartire soltanto la sera. E quando si parla di musica, nel suo bel salotto di Vernon, egli afferma con convinzione che la pittura è un'arte molto inferiore. E' un'arte molto inferiore. E' un'arte molto inferiore.